Il progetto è rivolto a persone non autosufficienti e con disabilità che hanno avuto un passato come dipendenti IMSS o sono familiari degli stessi e che oggi si trovano in situazioni di non autosufficienza ma sono assistiti in famiglia. E quindi diciamo questo è una forma di contributo, di assistenza, di percorso che l'IMS riversa quindi attraverso uno 0,35% delle buste paga dei dipendenti IMSS, quindi diciamo totalmente finanziato e consente di poter pagare con una quota mensile che viene data alle famiglie sia l'assistente che cura l'anziano, per esempio se si tratta di un anziano, fornisce oppure può essere fornito attraverso strumentazione per disabili oppure attraverso anche consultazioni, consulenze che vengono fatte da specialisti. Siamo domani mattina alla Sala San Michele alle 10, dalle 10 alle 13, ecco oltre a me, al coordinatore d'ambito, il dottor Mandolini, sarà presente come dicevo la dottoressa Genova, ma anche il dirigente dei servizi sociali della Regione Marche, dottor Mannucci.